Quello che ci preoccupa è la fatica di reperire affitti nel territorio, per cui anche con la garanzia della nostra stessa Caritas si fa fatica a trovare questo. Questo una volta era maggiormente per le persone provenienti da altri paesi, oggi anche per gli italiani. L'emergenza a casa si fa sentire in tutta la sua gravità, a Treviso in questo inizio di 2023, gli sfratti da una parte e la mancanza di alloggi in affitto dall'altra anche per chi potrebbe pagare. Nel variegato panorama delle povertà vecchie e nuove la questione casa sta diventando un vero e proprio allarme. Lo conferma la Caritas che sottolinea come non ci sia neppure più la tutela di nuclei o genitori soli con bambini. Una volta teneva maggiormente la tutela anche di famiglie con i minori, oggi questa fa anche più fatica perché poi subentrano svariate motivazioni su questo, però effettivamente l'aumento c'è. Troppe tasse, rischi, incombenze ma anche la diffidenza tra le persone cresciute durante la pandemia, dice Don Davide, con il risultato che i proprietari preferiscono tenere gli appartamenti chiusi. Rivolgo anche un appello perché si possa intervenire sia a livello politico e anche istituzionale per favorire e per aiutare anche le persone che possono mettere a disposizione dei appartamenti per la locazione perché è una fatica che sta crescendo sempre più. Sociale, pubblico e privato da una parte, comuni dall'altra. Tocca a queste realtà la prima risposta alle richieste di aiuto di chi si trova senza un tetto e anche da Cassugana arriva un appello rivolto a regione e governo. La situazione è grave, non l'abbiamo mai nascosto. Il comune è in prima linea e in prima linea insieme a tante associazioni di volontariato. Non può essere lasciato solo però. Stiamo lavorando nuovamente sulle emergenze abitative per poter dare sfogo alle quasi 200 domande che avevamo alla chiusura dell'anno 2022 che restano lì giacenti e alle nuove che arrivano. Quindi siamo in continua emergenza. Però è importante che vengano attivati dei nuovi strumenti a livello nazionale e regionale. È una situazione grave che noi stiamo puntellando, monitorando e su cui stiamo chiedendo aiuto.